Non si ferma il tour di Giuseppe Conte fra i percettori del reddito di cittadinanza. Dopo Napoli, in particolare nel quartiere di Scampia, il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato a Palermo per ribadire la sua vicinanza a chi vive in condizioni di difficoltà e povertà. La prima tappa è stata nel quartiere Zen, dove Conte ha attaccato la politica del governo Meloni che vuole addirittura anticipare i tagli alla misura, ha detto l'ex premier, rendendoli ancora più pesanti. È un disegno irragionevole. È evidente che laddove non c'è prospettiva lavorativa, laddove c'è una fascia di povertà ancora più diffusa e tenete conto che lo Svimez per l'anno prossimo sta già prevedendo ulteriori 700.000 poveri, nuovi poveri. Quindi il governo cosa fa? Addirittura, anziché rafforzare e preventivare un intervento di protezione ancora più ampio e se mai migliorare invece, lì bisogna intervenire sulle politiche attive del lavoro, pensa di smantellare questo sistema. Il leader 5 Stelle ha poi sottolineato ai cronisti presenti come l'attuale governo dimostra una visione del paese distorta, introducendo sconti per gli speculatori, evasori e corrotti, finendo per accanirsi con la povera gente. Il già chiuso di Conte, dopo la campania, si declina quindi anche in Sicilia, dove l'ex premier ha ribadito la sua linea e del movimento contro la politica sociale attuata dall'esecutivo nazionale. Il governo non si rende conto, ha proseguito, che quelli del reddito di cittadinanza non sono soldi che vengono dispersi, ma vengono subito consumati soprattutto in genere alimentari e contribuiscono a far aumentare i consumi, ha terminato. La visita dell'ex presidente del Consiglio nel capoluogo siciliano si è poi conclusa ai dani sinni. Grazie a tutti.